Tornando un po' alle tematiche che mi sono state poste, la prima riguarda la questione della decretazione d'urgenza. È evidente, mi sembra a tutti, che ci sia un eccesso, ma non è un problema di questa legislatura, è un problema ormai da molte legislature, che ci sia un eccesso da questo punto di vista. Soprattutto noi abbiamo avuto nel mese di luglio veramente una quantità notevole di decreti legge da convertire. Io ho voluto scrivere una lettera a Giorgia Meloni, con la quale ho avuto già diverse interlocuzioni sul tema, rappresentando questa difficoltà da parte del Parlamento e rappresentando il fatto che ovviamente una riduzione sarebbe giusta e gradita, perché appunto essendo decretazione d'urgenza magari noi ogni tanto ci troviamo ad affrontare tematiche che forse non sono così urgenti quanto diciamo dica il titolo dei decreti. Gli elementi alternativi ci sono, noi stiamo cercando di suggerirli, mi sono fatto l'idea e ho l'opinione che talvolta sia anche un po' un'abitudine, magari un'abitudine da parte di alcuni uffici ministeriali, di volere il decreto perché entra immediatamente in vigore eccetera, però guardate che veramente con i disegni di legge noi ne abbiamo fatto qualcuno, in 60 giorni erano approvati sia dalla Camera sia del Senato o poco più, quindi non cambierebbe a livello di tempistica poi l'entrata in vigore definitiva.